Green Pass normale e Super Green Pass. Da oggi, e almeno sino al 15 gennaio, anche in Puglia, la certificazione verde introdotta dal governo come misura di contrasto alla pandemia di Covid si sdoppia prevedendo regole più rigide per i non vaccinati. Il Green Pass rafforzato verrà rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite dal coronavirus. Non ci sarà bisogno di scaricarlo, ma sarà sufficiente mostrare quello di cui si è in possesso. Il Green Pass base è previsto invece per chi risulta negativo a tampone molecolare o test antigienico, validi rispettivamente 72-48 ore. Il Super Green Pass darà diritto ad accedere ad ogni tipo di manifestazione, cerimonia pubblica, evento sportivo e di consumare nei locali al chiuso. Questo senza nessuna restrizione nelle zone bianche, gialle o arancioni. Dunque, da oggi, per entrare in cinema, teatri e stadio o per sedersi all'interno dei ristoranti, servirà la carta verde rafforzata. Il Green Pass tradizionale, cioè quello ottenuto solo con il tampone, sarà utile invece per recarsi al lavoro, in palestra, per nottare in albergo e diventa adesso obbligatorio per salire sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come treni ad alta velocità, navi e aerei, in metropolitana, su autobus e treni regionali. Resta confermato che non c'è mai bisogno di alcun certificato per fare la spesa o in generale lo shopping ed è sempre ammesso accedere agli uffici pubblici, in banca, in posta e partecipare alle cerimonie pubbliche in chiesa o in qualsiasi luogo di culto. Lo stesso vale per sedersi nei bar e ristoranti all'aperto o per consumare al bancone, nelle zone bianche e gialle. Restano invariate le regole relative all'uso della mascherina, che deve essere sempre indossata nei luoghi chiusi e all'aperto laddove è previsto da apposite ordinanze sindacali. Confermato anche l'obbligo vaccinale per personale sanitario, scolastico e forze dell'ordine. Capitolo sanzioni. Chi accede alle attività vietate riceverà una multa che va dai 400 ai 1000 euro, che può essere ridotta del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione. Stessa sanzione per gli esercenti che non controllano Green Pass e Super Green Pass, facendo accedere chiunque. Dopo tre multe è prevista anche la chiusura dell'attività per un periodo di 10 giorni.